Musica Arriva anche a Civitanova Marche, Macerata, la rete dei punti di ricarica ultrafasta by Volvo Cars inaugurata la stazione Power Stop Euromotors nell'ambito del progetto nazionale promosso da Volvo Car Italia per favorire la mobilità elettrica nel nostro paese Siamo qui alla concessionaria Euromotors per inaugurare una colonina di ricarica ultrafasta La colonina di ricarica fa parte di un progetto più ampio, il progetto Power Stop che prevede la realizzazione di una trentina di colonnine di ricarica in tutta Italia in collaborazione con i concessionari Volvo più lungimiranti nelle immediate vicinanze delle uscite autostradali Le colonnine di ricarica ultrafasta sono le uniche che consentono una mobilità di lungo raggio con un'autovettura elettrica, quindi interprovinciale, interregionale Volvo ha scelto di entrare in campo direttamente e quindi realizzare una rete di infrastrutture di ricarica ad alta potenza proprietaria con una forma di rispetto verso tutti gli utenti elettrici della strada in modo tale da consentire una percorrenza interregionale e quindi una sostituzione integrale delle auto mosse da motore a combustione interna con le auto elettriche, quindi l'auto elettrica non solo per la mobilità cittadina l'auto elettrica per la mobilità nazionale direi che siamo l'unica casa che ha una rete proprietaria in fase di sviluppo oggi in Italia rete che peraltro consente ricariche veloci e quando dico veloci dico ricariche di una ventina di minuti la rete è già attiva, quindi abbiamo già 12 stazioni di ricarica attive in Italia abbiamo raccolto delle statistiche gli utenti si fermano 20-25 minuti a ricaricare e ricaricano 150-200 km di autonomia in un periodo così breve